Ciao, come stai? Benvenuto o benvenuta nel canale di Celso ASMR. So che questo periodo può essere abbastanza stressante per molte persone, perché quando arriva a settembre, è un mese sempre di carico, di aspettative, perché iniziano cose nuove, nuovi percorsi, si ricomincia, quindi è normale sentirsi un po' agitato, un po' nel reposo, un po' stressato, è per questo che adesso proverò a farti rilassare, calmare, spazzerò via tutti i pensieri negativi e per cominciare bene, per cominciare alla grande, bisogna prima di tutto purificarsi e ripulire l'energia negativa che hai dentro, che ti sta facendo venire tutta quest'ansia. E quindi adesso userò alcuni oggetti per ripulire l'energia intorno a te e dentro di te e dentro di te. E proverò a portarti su un altro livello. prima di tutto vorrei accendere questo incenso veramente buono, si chiama i sette chakra. i sette chakra. E' un odore veramente buono e aiuta ad aprire la mente a rilassarsi. io ti posso assicurare che lo uso diverse volte e ogni volta mi sento così rilassato quando respiro questo olore è buonissimo. Allora cominciamo subito purificando l'aria e l'energia intorno a te. senti che buon odore. Sono entrato in questo negozio che aveva, non so forse centinaia, centinaia di tipi di incenso diversi. ho chiesto consiglio e ne ho presi diversi tipi. Questo è uno dei più buoni secondo me. adesso facciamolo bruciare un altro pochino perché non è stato sufficiente. ok. Adesso voglio che respiri a pieni polmoni questo buonissimo, buonissimo odore. Senti, come ti calma, come ti apre la mente. lo passo tutto intorno a te. Così. respira profondamente, profondamente, profondamente. così, bravo. è un incenso magico. Senti come la tua mente si apre. così, lentamente, profondamente. Respira. purifichiamo tutta l'aria. L'energia intorno a te. continui a respirare. E ogni volta che respiri, ti senti sempre, sempre più in pace. sempre più tranquillo, rilassato. come se improvvisamente ti rendessi conto che non c'è nulla da temere. che un nuovo inizio non è altro che una sfida. e ogni sfida ti fa crescere un po' di più, ti fa imparare cose nuove. e quindi è tutto positivo. Anche non riuscire è una cosa positiva, perché comunque hai affrontato qualcosa di nuovo che non avevi affrontato prima. quindi ti sei arricchito. rilassati, rilassati, rilassati. così. lascia che questo fumo ti purifichi. adesso lascerò bruciare questo incenso. qui, questo porta incenso, con questo Buddha, così in pace. e guardo la sua espressione di pace interiore. ok. ok. Lascerò qui l'incenzo che continuerà a bruciare e adesso continuiamo con la pulizia e il prossimo passaggio sarà quello di estrarre i tuoi pensieri negativi, tagliarli alla radice e rinchiuderli dentro questa meravigliosa scatola. Con questi fiori meravigliosi e questa... quest'ape che sarà la guardiana dei pensieri negativi e non li lascerà più uscire. Allora iniziamo subito con la rimozione. Di questi inutili pensieri negativi apriamo la scatola e cominciamo a estrarre la negatività e a tagliarla con queste forbici speciali. Dentro la scatola... Un altro pensiero negativo... Dentro la scatola... E un altro... Via qui dentro... Un altro pensiero negativo... Via... Innecessario... Superfluo... Anche questo non ti serve... E quest'altro... Inutilissimo... E questo cosa dice? Non posso farlo... Certo che puoi farlo... Non c'è tempo... C'è sempre tempo... Non ce la farò... Ovviamente ce la farai... Non mi piaccio... Però... Se sei fantastico... Guardati... Via quest'altro pensiero... Via... E questo... E' molto... Difficile ma... L'abbiamo estirbato... Fuori... 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 Fuori un altro... Così... Sentiti più leggero... Adesso potresti... spiccare il volo, non è così? Così, è così che vuoi sentirti leggero, libero, puoi fare qualsiasi cosa, sei al comando della tua vita sempre. E adesso tutti questi pensieri negativi ci vediamo qui dentro e non li facciamo più uscire. Ok, mancano due passaggi. Il primo passaggio sarà quello di rimuovere quei piccoli rimasui che sono rimasti lì, quelle bricioline che anche se non si vedono sono lì, piccole come microbi però, che comunque pesano tanto. Questo è uno spazzolino speciale per rimuovere la negatività, è molto molto morbido, come una carezza di una piuma, ma è molto efficace. Quindi puliamo tutto bene bene. Così una pulizia strada, accurata e profonda. Adesso ti senti meglio, ti senti più positivo, libero da tutte quelle catene che ti sentite quelle catene che ti facciano pensare che non potevi farcela, certo che puoi farcela. Sei speciale, continua a respirare questo odore mentre io finisco la pulizia così. Così, così, così. e adesso abbassiamo un po' le luci perché è arrivato un momento speciale. adesso che hai dato via i tuoi pensieri negativi, sei pronto per intraprendere questo nuovo viaggio. immagina di trovarti su una barca, una barca potente, pronta ad andare dove vuoi tu e il comandante te sei proprio tu e la dirigi con molta sicurezza. immagina di trovarti nel mare aperto, libero. immagina di trovarti nel mare aperto, libero. correndo a gonfie vele verso nuovi orizzonti. immagina il rumore delle onde che ti culla, il silenzio, la pace. la pace, la pace, la pace. la pace, la pace, simpat, simpat, simpat. Così, rilassati. Sei pronto, non sei mai stato così pronto in tutta la tua vita. Riposati. Riposati. Riposati, riposati. 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 Riposati.